Lugna, treno, controllo e un quarto, alfa, lavoro, movimento, snazziamento, fermento, il binario 12, me ne vado in azienda in direzione generale, quella della, come suona, la musica mette neppe il buon umore, allora se ne andiamo a Bologna in direzione generale, quella della mia azienda, quella della Unipossessi colazione, di cui sono agente procuratore, con orgoglio, mette fuori e testa alta, ogni tanto è necessario farsi una passeggiata per trattare cose un po' più complesse, importanti, quello che ti vale, treno, due ore, pennegliello, appuntamento e se torna indietro, secondo te sto male, treno di una comodità vergognosa, le macchine stanno in garage a 30 gradi e si preservano, perché preservarsi è importante, viva la vita, immobilismo, male dell'essere umano, snazzi! Grazie! Grazie! Grazie!